allora buongiorno buongiorno a tutti sono mauro degli orti di mauro il mauro dalla cascina mauro che volete voi adesso stamattina in maniera piuttosto veloce adesso non è un lavoro lunghissimo vado a cambiare la cartuccia del filtro perché questo filtro era stato installato c'era qui 21 adesso siamo al 19 settembre del 2022 quindi sono passati nove giorni in più le cartucce dei filtri di questo tipo vanno bene per litri 4.000 o una volta ogni 12 mesi va fatta la sostituzione io sono riuscito a averla questa è la cartuccia che adesso vado a montare la WS1 la Bove water system è una ditta americana che riproduce la stessa cartuccia identica quindi compatibile con il sistema SEGUL 4 che è il mio il mio filtro più avanti quindi alla scadenza di questa molto probabilmente installerò invece una cartuccia WS1 plus che è più specifica per il mio caso perché io uso acqua ferma quindi acqua di torrente non ho un acqua adesso in questo momento non sto usando acqua della sorgente perché la sorgente è morta non va più e bisogna aspettare che piova molto perché si riprendano le falde appunto sotterranie e tutto quanto e al momento come sapete avete visto magari in altre mie circostanze prendo acqua prelevo acqua da torrente che è poi lo stesso che alimentava comunque anche la sorgente fondamentalmente è la stessa acqua che arriva da quella montagna esiste però in questo caso un rischio più elevato di carica batterica organica perché essendo acqua che comunque ha delle impurità anche a livello materiale proprio foglie rametti cose di questo genere magari anche gli stessi animali che vanno a bere fare delle cose e poi il fatto che venga trasportata comunque in questo modo per arrivare poi in una cisterna dove rimane ferma ma nella cisterna io non lo tengo ferma più di tre quattro giorni perché comunque un consumo piuttosto elevato anche di acqua la stessa questo rumore che sentite in sottofondo è la pompa che sta pompando acqua dalla prima stazione quindi dal livello della cascina al livello dell'orto avevo 500 litri 600 litri a spostare in modo tale che poi lascio sotto carica la mia batteria che ho tra che trasporto con la moto carriola lascio sotto carica tutto il giorno e probabilmente o stasera o due mattina vado poi giù al fiume e ripristino quei mille litri che verranno a mancarmi da cosa ci accorgiamo se il filtro è arrivato quasi a fine ciclo della sua vita diciamo per il fatto che se noi apriamo abbiamo una portata veramente minima in questo caso è veramente poca l'acqua io poi mi sono accorto anche dal fatto che la pompa va a colpi quando noi abbiamo poca portata di conseguenza abbiamo una situazione che che non va bene perché la pompa continua ad andare ad intervalli pur avendo installato anche lei il vaso dell'espansione quindi adesso cosa succede devo andare ad aprire chiaramente il fermo qua del bicchiere d'acciaio inox è un sistema veramente molto valido molto bello quindi vi assicuro che è un bel filtro poi vi posso rimandare a vedere anche il filtro completo del trattamento acqua che ho fatto io qui in cascina perché non è l'unica cosa che utilizzo questa è la parte finale del mio impianto cioè io da questo tubo prendo solo acqua per cucinare e per il prendo acqua per cucinare e l'acqua da bere io bevo l'acqua questa acqua io bevo questo possiamo vedere che è avvitato questa cartuccia adesso va smantita regolarmente poi mi interesserò in che modo è possibile smaltire queste cartucce vedete che la pressione c'è ma attraverso la cartuccia stessa adesso io farei prendo un secchialo d'acqua in questo caso la posso prenderla lavo queste parti dovete sapere che io in questo modo non ho non ho vincoli non ho ma forse tanti di voi seguono mauro le giorte di mauro piuttosto che quello che combino qua su questo canale però effettivamente io vivo senza utenze vivo senza bollette quindi non ho bollette non ho spese fisse non ho i famosi fissi per tutta una serie di cose come vi dicevo vi rimandavo al video integrale di questo impianto dell'acqua perché ho anche una lampada ultravioletti un sistema di filtraggio una cisterna dove accumulo in un secondo passaggio anche altra acqua quindi ecco diciamo che l'impianto di per sé non si ferma solo al singolo filtro per il trattamento appunto di questa acqua che poi io utilizzo per bere ma l'impianto è più completo quindi vado a recuperare una spugnetta un attimo che mi serve e torno subito torno immediatamente allora praticamente vi dicevo che l'impianto non è limitato al solo alla sola installazione di questo filtro che è poi quello che è definito il mio filtro alimentare allora da questo filtro io cucino bevo e do da bere anche i miei cani quindi l'acqua dei cani la prendo comunque da qua nonostante loro siano adattati anche a berla nel fiume direttamente cioè i cani non hanno questo problema che possiamo riscontrare noi che in realtà c'ho meno anch'io perché se ho sete bevo direttamente la torrente pure io mi metto giù come un cane però cosa succede? avendo questa necessità appunto di avere un sistema di filtraggio più sicuro avevo proprio bisogno di avere un sistema che mi permettesse di stare tranquillo essendo che pesco acqua di questo tipo insomma adesso se non ho le unghie come sempre devo arrangiarmi no si è aperto meno male le cartucce quando le acquistate non potete renderle quindi sono non è possibile rendere quando se sbagliate l'ordine dovete tenervele non è permessa la restituzione però vi ragioni igieniche allora un'altra cosa che volevo dirvi la cosa bella di questa vita della WS per esempio non ho messo il telefono in modalità aere adesso mi stanno arrivando un sacco di messaggi scusatemi che ho appena fatto un post sul canale telegram degli orti di Mauro il bello di questa azienda vi volevo dire che i carboni che vengono utilizzati per il filtraggio non arrivano non sono derivati dalla materia prima quindi dalla legna direttamente ma dalla noce di cocco la pianta di noce di cocco leggevo sul loro sito fa anche 3-4 raccolti all'anno nelle zone pure appunto dove si riforniscono di questo frutto lo scarto quello che è lo scarto dalla noce di cocco viene fatto appunto da lì il trattamento la carbonizzazione quello che fanno loro i loro procedimenti per ottenere i carboni attivi che servono per il filtraggio quindi la cosa bella di questa ditta sta proprio lì il fatto che non abbattono la pianta per poi farne la materia prima ma utilizzano il frutto di queste piante che continuano a essere piante vive piante attive in questo caso e producono appunto queste queste cose che poi servono per il per fare il filtro questi carboni che servono poi per fare il filtro allora adesso come avete visto ho avvitato la cartuccia in posizione adesso noi andiamo a ribloccarla un attimo di qui è un filtro praticamente meccanico a tutti gli effetti quindi non c'è non ci sono organi meccanici in movimento non ci sono spine collegate io vi dico potreste anche mettere quel dispositivo che vi contabilizza i litri 4000 litri ma ve ne rendete conto dalla portata primo e dal fatto che una volta all'anno comunque dovete cambiarla poi chi come me utilizza acqua ferma quindi acqua di cisterna acqua che comunque potrebbe usare anche per assurdo l'acqua piovana se vuole no? ecco a quel punto deve secondo me puntare alla WS1 Plus che è più specifica appunto una volta terminata l'installazione così semplicissima come avete visto io metterò il mio secchio qua in terra apro il mio impianto che si sta riempiendo adesso inizio a filtrare e appena arriva da qui in questo caso dobbiamo spillare dai 3 ai 4 galloni che sono circa 18 io ho calcolato per 5 sono 18 litri farò un paio di questi secchi faccio un paio di questi secchi d'acqua in modo tale che appunto facciamo il lavaggio della cartuccia nuova appena installata come ho già spiegato in altre circostanze è installato in questo modo perché è in forma provvisoria nel mio caso perché io avrò bisogno poi di prendere questo qui quando sarà terminata la piscina lo avrò sotto il lavandino della piscina con il suo rubinettino dedicato da cui prelevo appunto l'acqua che vi ho detto in questo momento è qua perché è l'unico punto dove io ho l'impianto funzionante quello che vedete accanto a me è lo scaldabagno a legna quindi è lo scaldabagno che mi permette di riscaldarmi l'acqua i vari circuiti c'è il miscelatore termostatico più oregolo per avere l'acqua miscelata sulle impianti perché questo lo tiro su quando faccio addirittura il trattamento termico nello scaldabagno lo tiro su 80-90 gradi come ridere non mai meno di 50 perché comunque anche quello per me è molto importante avere comunque una situazione di questo tipo come vi ho detto decantazione, primo filtraggio, lampada UV trattamento termico quando diventa calda e filtraggio di questo tipo quando invece andiamo a utilizzarla per visualizzare io non mi trattengo ancora, posso già anche salutarmi finisco come in questo caso, qui poi perde anche il bocchettone dove lo metto alla posta perché è proprio l'impianto non avevo l'oring, insomma alla fine lo faccio così al volo anch'io con idraulico e sono un ex idraulico quindi appena sarà possibile che questo andrà installato poi sotto la cucina quello che sarà lo farò anche tutti i vari assorgimenti idraulici del caso in questo caso non è aumentata tantissimo la portata perché è proporzionale alla portata che abbiamo proprio di impianto quindi filisteria e la pompa che c'è nel mio impianto è che è equilibrata perché non sia oltre la portata della lampada UV quindi se noi abbiamo una pompa che fa 12 litri al minuto e passano tutti dall'impianto ma la lampada è una lampada per 3 litri al minuto non state facendo il lavoro di batterizzazione della lampada l'acqua non può correre nella lampada e scappar via più di quello che ha la sua portata ragion per cui queste cose sono da prendere in considerazione nella fase di progettazione dell'impianto e di realizzazione dell'impianto non mi dilungo oltre appena vi tiro il primo secchio uso quest'acqua per bagnare delle piante che c'ho qua fuori mettilo un altro poi tutto e per oggi io a livello di acqua sono a posto con i pollici fate quello che volete un video penso brevissimo vi saluto e se avete bisogno di conoscere altre cose fatevi domande nei commenti chiedetemi quali altri video vi possono interessare relativi alla mia vita in cascina e in questo modo vi saluto ancora ciao a tutti grazie grazie